Sventato furto venerdì sera in un appartamento di via Ruggero VII a Caltanissetta. Un inquilino del palazzo, dopo aver visto dalla finestra della propria abitazione, un giovane incappucciato arrampicarsi sulla tubatura del gas e introdursi nell'appartamento del vicino attraverso la finestra della camera da letto, ha immediatamente allertato il 113. Il ladro, fiutando di essere stato scoperto all'arrivo dei poliziotti della sezione volanti, già era andato via lasciando sul posto l'area furtiva. I poliziotti infatti hanno trovato la camera da letto dell'appartamento a soquadro e orologi e altri oggetti in oro poggiati su una poltrona con accanto una federa vuota. Abbandonato sul posto anche un cacciavite, probabilmente utilizzato per forzare la finestra che è stato sequestrato. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia scientifica. Indagini in corso. Quattro uomini hanno scavalcato sabato sera la recinzione di un condominio di San Cataldo per poi fuggire a bordo di un Opel, un'impresa che non è sfuggita da alcuni residenti che hanno avvisato la polizia, mentre i quattro uomini, una volta scoperti, si sono dati alla fuga in direzione della zona industriale. Poco dopo sono stati intercettati dai poliziotti della sezione volanti al chilometro 46 della strada statale 640 in direzione di Agrigento. Fermati quattro uomini, tutti romeni, di età compresa tra i 29 e i 23 anni, residenti a Canigatti, con precedenti per reati di recettazione, lesioni personali, porto abusivo di armi, minacce e furto aggravato, sono stati perquisiti. Addosso ad uno di essi, gli agenti hanno rinvenuto un orologio da polso femminile, colore oro, del quale il ragazzo, un 29enne, non ha saputo fornire la provenienza, motivo per cui è stato denunciato e stato di libertà la locale procura della Repubblica per il reato di ricettazione.